No, vabbè, questo è io, questo è un gannaggio, ma non è che la sorella pazza. È la sorella che la pazza, non è? Non è che la sorella pazza, non è? Che da là che i capelli ricci che sono in amministrazione. È la sorella. È la sorella. Ha visto quanti anni delle camere in realtà, non è che li puoi scattare una. Oh, che è questa? Guarda, io ti riuscite l'altro. Questa è la coperta che la puoi metterla da lì. La puoi metterla in là. La tocca a un'altra cosa, se non è. Questa è la cosa. Questa è la cosa? 10 minuti. Però, c'è la vita. Comunque fanno pure più piccoli, eh. Sì, lo so. Quello che ho fatto a te la tua. Fanno pure la costruzione, guarda. La costruzione. La costruzione. La fanno pure la costruzione. La fanno pure la costruzione. Però vi sforzo l'obiettivo. No, fanno proprio l'andella. Giustinare l'unità è proprio piccoli a vecchia. Ma sta registrando. C'è la registrazione questa roba. Qua si va o si cancetta? No, no, no. Che c'è la trasfascia in là. T'è la scena memoriale. Sto registrando. Quando vedi tu cosa c'è la lampeggiocco. Che sta registrando. E che stai facendo a loro tu? Ui, ciao. Vedi, ho calma. Mi fai premere la mia vita. Mi fai premere la mia vita, allora. E' suon? No, è mio, è mio. Non si. Che ero matina? Che è per una nina tu? E' giù? Eh? Vuoi giù? Non ci Гля? Mamma mia, che c'è giù. Sono giù statissime. a 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